Ci siamo? 3, 2, 1, here we go, hola Burdel e allora ottava edizione del 6 nazioni, all'epoca erano solo 4, dell'Home Championship e andiamo a vedere quello che è successo. Hola Burdel, cari amiche, cari amici del canale Rugby Z10, appassionate ed appassionate della pallovale, continuo su entrambi i canali, YouTube e Spotify, questo mio format che mi piace tantissimo, ovvero converto i punteggi del 6 nazioni dell'epoca utilizzando il metodo odierno e vediamo cosa cambia nella classifica generale, vediamo cosa cambia nell'assegnazione dei titoli. Attualmente, diciamo, 1890, ottava edizione, in realtà è la quinta che assegna il titolo, perché? Perché in questo ci sono ancora, fino al 1889, l'Inghilterra faceva i capricci perché le altre union avevano fondato l'International Rugby Football Board e allora loro non giocavano per ripicca perché loro avevano inventato il gioco e quindi volevano fare tutto quanto di testa loro. Comunque, andiamo a vedere quello che c'è prima di andare a vedere sul campo da gioco, sui campi da gioco della pallovale, un po' quello che ci propone questo 1890, un anno gringosissimo, diciannovesima FA Cup, l'FA Cup è un po' più avanti di noi, ma c'è un calo di spettatori, 27.000 dell'anno precedente diventano solo 20.000 anche perché i Blackwood Rovers vincono il loro quarto titolo con lo Sheffield Wednesday per 6-1, quindi una partita veramente a senso unico che probabilmente non interessava più di tanto gli spettatori. i Blackwood Rovers e Sheffield Wednesday attualmente entrambe impegnate nel Championship, la seconda lega inglese. 1890 viene introdotta la festa del primo maggio, 1890, primo incontro ufficiale dei mitici Barbarians. 1890, col massacro di Wounded Knee, si chiudono definitivamente le guerre indiane, una delle pagine più tragiche della storia del nuovo continente. nati eccellenti in questo anno, si spazia dall'arte, la politica, l'ambito militare, insomma, nati importanti. 1890, Ho Chi Minh, il vietnamito Ho Chi Minh, tutti quanti lo conosciamo, come tutti quanti conosciamo Stan Laurel, il mitico Stanlio della coppia Stanlio Olio, il pittore Giorgio Morandi e nascono i due generali, uno dei quali diventerà anche poi presidente della propria nazione, ovvero Charles de Gaulle e Dwight Eisenhower. Eisenhower poi diventerà presidente degli Stati Uniti, De Gaulle, tutti quanti lo conosciamo, ha un gigantesco aeroporto dedicato per quello che ha fatto per la Francia. Insomma, anno veramente gringoso. Nasce Maria Goretti, poi diventerà santa Maria Goretti, vittima di un omicidio a seguito di uno stupro, una ragazzina uccisa all'età di 12 anni. E nasce anche Julius Harry Marx, tutti quanti lo conoscono come Grocio Marx, Grocio è una forma, diciamo, di borbottio, brontolo, un comico che faceva parte del gruppo dei fratelli Marx, insomma, un grande uomo di spettacolo. E poi nasce Agatha Christie e tutti quanti non possiamo non conoscerla. Muore Tatanka Jokate, tutti quanti chiederanno chi è Tatanka Jokate, il capo dei Sioux, conosciuto come Toro Seduto. Muore Carlo Collodi, Pinocchio è la sua opera più importante, ma non solo. E poi, a 37 anni, si spegne Vincent van Gogh, pittore, probabilmente uno dei più famosi, il più famoso al mondo, non lo so, uno di quelli che mai piace di più. Finalmente parliamo di rugby, 1890, si torna a giocare il Championship, e allora la Scozia risfoderà il suo fortino al Rebrun Place, l'Irlanda gioca a Lansdowne Road e il Galles a Llanos Park. L'Inghilterra si sposta al nord, a 60 km di York, a Newsbury, al Crown Flat, per un incontro. L'altro incontro lo farà al Rectory Field di Londra. Si torna a giocare a pieno ritmo e c'è un forte incremento di pubblico. Si riprende anche ad assegnare la Calcutta Cup, il trofeo che viene donato a chi vince il match fra Scozia e Inghilterra. Attualmente l'Inghilterra è avanti per 3-1, vedremo se allungherà o meno durante questo Championship. Partite, le partite, si parte con Galles-Scozia, il Galles perde in casa 1-0, in realtà le mete segnate sono 1-3, per quello che oggi sarebbe un 5-17, che frutterebbe 4 punti alla Scozia e 0 al Galles. All'epoca erano solo 2 punti assegnati in classifica, 10.000 spettatori all'Arms Park. Poi si va a giocare in Inghilterra, al Crown Flat, si gioca Inghilterra-Galles, Inghilterra-Galles termina 0-0, però visto che non viene convertito, non viene segnato nessun calcio, si va a vedere le mete. E le mete danno la vittoria al Galles per 1-0, perché il Galles segna un try, una meta. 5-0 al giorno d'oggi, 4-1 i punti in classifica per il Galles al giorno d'oggi, 2-0 all'epoca. I 5.000 spettatori di Dewsbury saranno sicuramente rimasti delusi all'epoca. Scozia-Irlanda, 1-0 con un drop e una meta per gli scozzesi, 8-0 al giorno d'oggi, 4 punti a 0 in classifica per quello che in realtà diede all'epoca 2-0 giocato in Edimburgo. Irlanda-Galles, un pareggio 1-1 sia nei calci che nelle mete, 7-7 al giorno d'oggi, 2 punti in classifica per 1 al giorno d'oggi e i 7.000 spettatori dell'Arms Down Road vanno via soddisfatti, chi lo sa. Poi c'è la madre di tutte le battaglie, in questo periodo come sappiamo Scozia-Inghilterra sportivamente parlando è veramente quanto di più gringoso ci possa essere, Scozia-Inghilterra, l'Inghilterra fa il suo match deludendo gli 8.000 del Rabon Place, 1-0 il risultato finale, in realtà l'Inghilterra segna due mete, oggi sarebbe 12-0 che frutterebbe 4 punti in classifica all'Inghilterra, all'epoca solo due, contro i 0 punti scozzesi. Ultima giornata, Inghilterra-Irlanda termina 0-0 sullo scoreboard, 0-0 nei punti del conversion, drop, mark, tutto quello che è, in realtà gli inglesi segnarono tre mete per un 15-0 finale odierno che avrebbe fruttato al giorno d'oggi 4 punti, all'epoca ne fruttò solo due, 0 sempre punti per l'Irlanda, 12.000 spettatori al Rectory Field, come vedete inizia a crescere l'interesse, l'interesse verso il nostro sport. Classifica finale, il titolo viene assegnato pari merito fra Scozia-Inghilterra con 4 punti, il Galles segue a tre, l'Irlanda chiude a uno, in realtà col punteggio terno, col metodo australe, anzi andatevi a vedere il mio canale, il Rugby Z10, commentate, like o dislike, la prima puntata di Rugby con Zucca, mettete l'alert così vi viene fuori ogni volta che faccio un video, come avete visto col metodo australe, oggi l'Inghilterra avrebbe nove punti, la Scozia otto, il Galles sei, l'Irlanda zero, quindi l'Inghilterra avrebbe un titolo in solitaria. L'Albo d'Oro al momento prevede quattro titoli per l'Inghilterra, tre per la Scozia, due di questi a pari merito, convertiti col punteggio che solo io mi diverto a fare, si va a un'Inghilterra a tre titoli, uno Scozia a due, e niente, attendiamo con ansia il prossimo appuntamento, quello del 1891, staremo a vedere, alla Burdel!